C'è una domanda di Mariano, cosa succede se la mailbox è superiore a 50 giga, visto che le shared mailbox sono di 50 giga, vabbè, non c'entra nulla con Veeam, qua sono limitazioni di Microsoft, mettiamola così. Ok, io ti faccio una domanda, non lo so, parlo proprio da come se fossi un utente, Giuseppe, perdonami. Io ho la possibilità di fare un restore dicendo voglio tutte le mail precedenti a? In questo caso posso farlo andando a selezionare il restore point specifico, cioè nel senso che immaginiamo. Ok, però nell'ultima versione della casella di posta io non ho la possibilità di filtrare, faccio un esempio, le mail precedenti di una tal data. Assolutamente, io posso andare a selezionare un range di date o comunque posso andare a selezionare una data di cui ho bisogno e lui mi andrà a mostrare il contenuto. Quello che abbiamo visto precedentemente sulla parte di Advanced Search, quando abbiamo visto l'explorer di Exchange Online, in quel caso lì posso andare ad avere vari filtri e lui ovviamente andrà a darmi il risultato a seconda dei filtri che ho inserito. Quindi io posso andare, ad esempio, posso andare sia a filtrare sull'oggetto dell'email, su chi ha inviato quell'email, sulla data di invio, oppure appunto se non ho la data di invio precisa posso appunto andare a selezionare un range. Quindi questo poi mi permette di avere una certa flessibilità in fase di restore. Di restore. Tornando sempre alla mail di Mariana, io faccio sempre il diavoletto, mettiamola così. Allora su 365 io ho per le licenze business 50 giga più 50 giga di archivio, eventualmente archivio illimitato, archivio illimitato con delle licenze. Se ho una shared mailbox ho 50 giga più 50 giga di archivio, non posso estendere l'archivio illimitato o non so se si ha la possibilità di poter aggiungere a una shared mailbox una licenza per l'archivio illimitato. Non penso, però vabbè, mettiamo che sia così. Tu fai il backup della casella di posta che a suo tempo era 50 giga, la devo poter ripristinare. Se io backup una casella di posta con le licenze enterprise che hai 100 giga, ovviamente se hai 78 giga di mail all'interno dei tuoi 100 giga la vai a backupare e quando devi ripristinarla non puoi andare a ripristinarla direttamente su una shared mailbox che ha limite a 50 giga. Ok, o la restori su un utente licenziato con una licenza enterprise che ha limite a 100 giga e così restori tutto, altrimenti filtri come ci ha detto poco fa Giuseppe per una determinata data andando a capire quanto potrebbe essere ipoteticamente lo spazio. Devi andare un po' a giocarci, mettiamola così, oppure ti fai un PST. Il concetto è che noi per quanto riguarda proprio nel dettaglio Vim non andiamo a limitare la grandezza del backup di quella mailbox, cioè nel senso per noi non fa distinzione se una mailbox è una shared o una mailbox utente. Noi facciamo il backup di tutto il contenuto della mailbox. Ovviamente poi se ci sono limitazioni in termini proprio della mailbox stessa, quindi appunto se è una shared mailbox che ha limite di 50 giga, in quel caso chiaramente la limitazione che avremo è che non potrò fare il restore di una mailbox utente su una mailbox di 50 giga, cioè su una mailbox utente magari di 100 o 200 giga su una shared di 50. C'è un'altra domanda, già risposta però è una domanda, Diego chiede quindi se io devo fare backup di SharePoint e basta non mi servono mai licenze? Per quanto riguarda lo SharePoint condiviso, allora come funziona il concetto? Se uno SharePoint appunto non è appartenente ad un utente, il concetto è che tutti gli utenti all'interno del tenant che hanno accesso a quel determinato site devono essere licenziati. Quindi ad esempio se ho degli utenti, se ho degli external users, se ho degli utenti esterni che accedono al site, quelli chiaramente non devono essere, non devono avere una licenza assegnata. Mentre se ho degli utenti interni che hanno accesso a quel determinato site, sì che devono avere una licenza assegnata. Ok? Ok, perfetto. Quindi anche se io devo backupare, il sito te lo fa backupare. Il sito di SharePoint, faccio un esempio, io lo dico proprio brutta contro ogni tipologia di commerciale che, tanto non ce ne sono, c'è anche qualche commerciale. La versione di Veeam che si chiama la Community Edition, ok, limitata, piccolina, con limitazioni a 10 mail se non ricordo male. Esattamente. Ok, quindi tu hai la possibilità di avere questa, non so che tipo di altre limitazioni abbia lato infrastruttura o altro. Non ci sono altre limitazioni, l'unica limitazione è che sono un massimo di 10 utenti, neanche 10 mailbox in questo caso, sono 10 utenti, però a livello di funzionalità è completa. È identica, è identica. Esattamente. Ok, avrebbe la possibilità di poter accedere a un tenant dove ci sono meno di 10 utenti e lavorare in maniera eula licenziata su un tenant più piccolo di 10 utenti. Sì, e da questo punto di vista non avrebbe bisogno delle licenze. Poi nel momento in cui, e anche qui poi sta la flessibilità del prodotto, nel momento in cui io ho bisogno di magari di andare a proteggere più utenti all'interno del tenant, semplicemente prendo a questo una licenza per il numero di utenti che devo andare a proteggere, applico la licenza sulla community edition e automaticamente queste licenze verranno assegnate poi ai vari utenti. Quindi permettendomi appunto di andare ad espandere la soluzione qualora dovesse essere necessario. Quindi da questo punto di vista direi che la flessibilità è pressoché, cioè nel senso il prodotto mi offre anche una certa flessibilità da questo punto di vista. Il concetto di community edition l'abbiamo praticamente per i prodotti più importanti, quindi per Vim Backup e Replication, che appunto la community edition è limitata a 10 stanze, per Vim Backup per Microsoft 365 e quant'altro. Quindi questo mi offre poi la possibilità anche di poter testare in maniera estensiva il prodotto in fase di, magari in fase di pilot o in fase di adozione dello stesso. Assolutamente. Vediamo se qualcuno ha qualche altra curiosità. Io ho una domanda se posso. Certo. Premetto che non conosco il prodotto. Ma l'istanza di Vim, dove viene, cioè dove è? In cloud? È un premise? È una macchina Windows. È una macchina Windows che può essere, sì, scusami. Ci hai beccato subito Gaetano. È una macchina Windows? No, no, vabbè. Ci hai beccato subito nel senso che quando abbiamo fatto le quattro call con Giuseppe io gli ho chiesto ma un'appliance Linux dal quale far partire tutto questo in maniera tale da non dover avere una macchina licenziata a Windows? Al momento no. Puoi scegliere di metterlo dove vuoi, senza nessun tipo di problema. Decidi di usare uno storage. Dentro Azure e il cv più sopra il programma. Esatto. Quello che non ho capito, scusate, la parte poi l'interfaccia utente web che abbiamo visto prima per il recupero eventualmente, quella si collega a un servizio cloud di Vim o si collega sempre? No, è locale. È un servizio locale che ti viene, diciamo, messo a disposizione quando fai il setup, dici voglio anche l'interfaccia web di Selservice Restore, ti aggiunge, diciamo, un web services locale sulla macchina dove hai installato tutto il tuo ambiente, si integra e viene pubblicata in internet. Quindi se la metti su Azure, dovrai poi pubblicare la 4443 del servizio in internet, raggiungibile dal tuo sito dove hai le tue aziende piuttosto che da tutto il mondo, per poter accedere, tanto poi hai bisogno di credenziali per poter accedere e l'utente può farlo utilizzando questa console web dal suo computer anche in ufficio. Chiarissimo. Esattamente. Grazie. Giusto un altro dettaglio per quanto riguarda questa parte. L'autenticazione, questo giusto poi per andare un po' in dettaglio, l'autenticazione viene fatta attraverso un Azure application che viene configurata direttamente dal wizard di Vim Backup per Microsoft 365. Quindi nel momento in cui andrò a configurare il restore portal, lui semplicemente mi farà creare un Azure application, ok? Quindi direttamente sul mio tenant e in questo caso questo mi permetterà poi di poter utilizzare le stesse credenziali sia per il restore portal che per il tenant stesso. Sì, non ne abbiamo parlato, ma è già una parte più tecnica, l'integrazione di questa applicazione con il tenant 365 si può fare in legacy mode o in diciamo modern authentication. Con la modern authentication si usa un'applicazione registrata a livello di Azure, come ormai fanno più o meno tutti. Quindi questa applicazione ha dei certificati, delle chiavi, dei permessi sull'infrastruttura Office 365 che tu hai. Se usi il legacy authentication invece il legacy authentication devi avere ancora un utente licenziato con il ruolo di impersonification sulle caselle di posta dell'utente un po' più arzigogolato, però si può fare anche in quella logica, nella logica vecchia, mettiamola così. Sì, a livello dei metodi di autenticazione noi li supportiamo entrambi, quindi da questo punto di vista non ci sono limitazioni e semplicemente là si va ad utilizzare il metodo che si utilizza proprio per il resto del tenant. Ovviamente in termini di sicurezza il consiglio è quello di utilizzare la modern authentication e non utilizzare la basic house, quindi quella che c'era precedentemente. Ovviamente perché lì avrò a disposizione la possibilità di avere una multifactor authentication mentre sulla basic non era disponibile e quant'altro.